Buonasera e benvenuti alla conferenza del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix, questa è la numero 146 ufficiale più qualche decina di ufficiose. Questa sera ho il piacere di avere con noi il professor Nicola Donti che ringrazio di averci raggiunto qui a Vittorio Retto. Allora siccome non viviamo un po' avete presente il filmato che abbiamo fatto girare, il suo pezzo memorabile sui pronto soccorso, penso che alcuni di voi l'abbiano visto, ma allora stamattina per non farmi mancare niente ho fatto un piccolo incidente anch'io e sono finita il pronto soccorso, quindi gli ho mandato le foto. Mi è andata bene, nel senso che l'ospedale ce l'abbiamo qui vicino, sono entrata alle 12.20, alle 13.02 minuti, ero già fuori con le radiografie fatte e rassicurata sul fatto che il ditone si è gonfiato molto, ma per fortuna non c'è nulla di rotto. Meno male. Quindi vi ringrazio ancora di essere qui, lascio la parola a lui, ci farà la sua esposizione, poi come al solito due minuti di pausa per i vari annunci e le domande alla fine, grazie. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti, vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio Francesca dell'invito perché è stato veramente molto gradito, ho appena appreso di essere arrivato dopo 140, quindi il grosso lo sapete già, io aggiungerò pochissimo, però la speranza è di poter dare anche il mio contributo, con Francesca ci siamo a lungo confrontati cercando di capire quale doveva essere o poteva essere il tema di questa serata, no? C'è stato un po' di mistero, ho visto qualche messaggio e via dicendo. Anche perché, come dire, quando devo proporre una tematica, già, come dire, trovare un tema specifico per me è difficile perché il mio modo, non solo di studiare, ma anche il modo di esporre, ha molto a che fare con la costruzione, come dico io, di ponti. Che vuol dire? Vuol dire che io sono più attratto dalle sinapsi che dai neuroni. Adesso la spiego. Molte persone credono che l'intelligenza dipenda dal numero di neuroni che una persona ha. Ora, questa è una grossa fregatura. Perché? Perché se tu hai miliardi di neuroni, ma tra di loro non si parlano, l'intelligenza è scarsa. D'accordo? Mentre invece, la cosa veramente interessante è quando tra questi neuroni inizia un dialogo, cioè si costruiscono le sinapsi. Perché sono importanti? Perché gran parte del nostro sapere, almeno così come è toccato di subirlo a me, è fatto per compartimenti stagni. Cioè è separato, è diviso. E il nostro metodo, un metodo molto in voga e un metodo validissimo per comprendere alcune cose, è un metodo che si definisce riduzionista. Cioè che vuol dire? Che analizza un tema, scende in profondità, poi scende ancora più in profondità. Poi ancora più in profondità e ancora più in profondità. D'accordo? Non lo so, io ricordo alcuni docenti all'università che si erano specializzati in un aspetto della filosofia di Nietzsche, ma ancora di più si erano specializzati su un testo di Nietzsche, ma ancora di più su un brano del testo di Nietzsche, ma ancora di più su una frase di Nietzsche, una riga, su una parola, la lettera di Nietzsche, ok? La N, la prima. La dico così ma sembra paradossale, però come dire l'infinitamente piccolo è andare. Questo è un modello che io non contesto sia chiaro, serve a capire delle cose. Poi ne esiste un altro che è fatto di connessioni e cioè ogni volta che studia qualcosa tende a immediatamente cercare quali siano le possibili connessioni, i possibili collegamenti con altre discipline. Anche perché ho imparato a mie spese che chi coltiva con passione la propria disciplina quando trova i limiti di quella disciplina è felice perché può passare ad un altro campo, ma chi la coltiva con fanatismo quando trova quei limiti non li ammette, è ben diverso. Siccome io ho studiato all'università filosofia e l'ho fatto con questa caratteristica di trovare le connessioni, ho iniziato, come dire, a fare un'operazione che oggi vi racconto, insomma tendo a non raccontarla perché rischio un trattamento sanitario obbligatorio che passa sotto il termine TSO, ma quando studiavo filosofia una mia caratteristica era quella di instaurare un dialogo con i filosofi che andavo studiando. Ora, piccolo problema, molti dei filosofi erano morti, quindi abbiamo un problema tecnico come instaurare un dialogo con chi è morto. Ci sono delle sedute spiritiche che si possono fare, ma insomma io non ho fatto questo. Ho cercato di immaginare questi autori che in qualche modo entrassero in comunicazione con me e l'ho fatto attraverso i loro testi, attraverso quello che avevano scritto attraverso le loro frasi, ma ancor più interessandomi ad un aspetto che di solito viene trascurato, la loro vita. Perché ognuno di questi filosofi, prima che concepire un pensiero teorico, ha vissuto. C'è Bergonzoni che è un altro filosofo vivente, non so se lo sapete, qualcuno dice è un comico, anche, non solo, che dice come disse giustamente Dante, passami l'acqua. Che uno dice, ma sicuro che anche Dante l'avrà detto, passami l'acqua, dov'è il bagno e quant'altro. Allo stesso modo io ho iniziato un dialogo con loro attraverso le loro vite e da questo punto di vista trovare come sponda ad esempio un grande personaggio come Carlo Sini, un filosofo contemporaneo straordinario, che rivendica una dignità notevole alle vite dei filosofi. Perché? Perché capire Spinoza e la sua etica senza sapere e conoscere la sua vita non si può, perché la vita di Spinoza è diretta emanazione della sua etica. Scoprire come loro hanno vissuto, scoprire ad esempio che Spinoza fu maledetto all'età di 25 anni e che quella maledizione l'ha portato a rischiare la vita, perché la maledizione implicava di non potersi più avvicinare a lui per più di sei gomiti, anche in caso di grave indigenza, ha significato per il giovane Spinoza rischiare di morire ed essere estromesso dalla società. Ecco, sapere che all'uscita di un teatro qualcuno cercò addirittura di accoltellarlo e che lui visse la sua vita con un mantello che riportava questa fessura, tutta la vita se l'è portato dietro per ricordarsi del rischio che aveva corso, ci aiuta a comprendere perché gran parte della sua vita sia stata dedicata a non consentire più che avvenisse quello che era toccato a lui. Pensate, la vita dei filosofi ci racconta tantissimo, la vita dei filosofi ci racconta e ci fa capire magari un po' meglio anche perché personaggi come Kant scrivessero in modo vagamente ossessivo perché lo erano e quindi, come dire, sapete che ognuno nel paese rimetteva l'orologio a seconda di quanto Kant usciva, percorreva lo stesso marciapiede, si infilava nello stesso bar, usciva alla stessa ora, andava tutto bene finché non gli capitò di innamorarsi e lì saltarono tutti i parametri. Naturalmente passò gran parte della sua vita a immaginare come doveva essere la dichiarazione perfetta per garantirsi il miglior risultato. Ora, andò benissimo perché lei nel frattempo che lui pensava morì, lei, e lui rimase appeso. Perché vi dico questo? Perché ci sono filosofi che, come diceva Nietzsche, io sono dinamite, filosofi che sono dinamite, filosofi che cambiano le regole del gioco e che rischiano in prima persona, ci sono filosofi eroi come Platone che non ha paura di finire prigioniero, ma o come Socrate che decide di rischiare tutto se stesso fino a bere la cicuta, e raccontare la vita di questi filosofi li rende un po' più vicini a noi e ci fa capire come gran parte di quella filosofia abbia a che fare con la loro vita, una vita reale. Altrimenti si rischia di finire all'interno di quelle meravigliose torri d'avorio in cui spesso i filosofi, come dire, sembrano sostenere solo la loro teoria, dimenticandosi dell'aspetto pratico. La filosofia è logica, la filosofia e pensiero critico, la filosofia mi ha dato tanto, ma non mi ha dato tutto, mi ha dato molto, mi ha dato la capacità di mettere in discussione l'ovvio, ma non è servita solo lei, è servita anche la mia vita e in particolare i due più grandi filosofi che io porto ogni volta a ogni corso di formazione che faccio, cioè i miei figli, che di fronte a tutto il mio sapere hanno scosso le mie fondamenta ancora da capo e questa cosa a me è servita tantissimo per non finire all'interno di un meccanismo di presunzione del sapere. I bambini sono straordinari perché sono dei filosofi naturali con un livello di radicalità mostruoso. Io lo dico sempre, sembrano delle tenere creature, ancora lui è dispensato, perché è piccolo, non ha conquistato il linguaggio. Come conquisterà il linguaggio? Inizieranno i problemi, problemi serissimi. Perché? Perché come conquistano il linguaggio inizia un bombardamento. Mi piacerebbe dirvi che non vi toccherà, in realtà tocca a tutti ed è un gioco, lo chiamano il gioco dei perché. Vedi che lo conoscete, lo avete fatto anche voi, ve ne siete dimenticati, ma se sentite, guardate, l'hai fatto anche tu. Ora, il gioco dei perché è un gioco che apparentemente è banale, nella sostanza è straordinario, anche perché i bambini in questo modo cercano l'etimologia delle parole. Perché si chiama ippopotamo? Ora, io la maggior parte delle persone, perché si chiama ippopotamo? Ma che ne so? Si chiama ippopotamo, lo chiamano tutti ippopotamo, sapete, è buona come ragione, no? Lo chiamano tutti ippopotamo, cioè sarà un motivo, non lo so, ma perché ippopotamo? Ho capito, aspetta, ci guardiamo, no? Dove vai? Su nostro sapere si ferma lì, a Wikipedia. Comunque, cerchi, una volta si andava, dice, sull'enciclopedia alla Treccani, vi ricordate, no? Quei tomi giganteschi che sorreggevano la libreria, servivano in gran parte a quello, togli quelli, viene giù la libreria, invece se ce li lasci, no? Accumulatore di polvere. Quando vado a leggere, scopro che significa cavallo del fiume e voi dite, ammazza che scoperta che abbiamo fatto stasera. Dice, ma a che ti serve? Niente se stai sulla terra, ma se ti capita di entrare in un fiume e di vederne uno, il consiglio è comincia a nuotare veloce, perché se l'hanno chiamato cavallo del fiume, vuol dire che va veloce, dice, ma è grasso, ignorante, il grasso dentro l'acqua tende a renderlo più leggero. Ah, ok. Quando io dico questo è perché? Perché quando cominciamo a farci questa domanda, la domanda dei perché, scopriamo delle cose straordinarie. Ad esempio, un'altra parola che mi piace tantissimo e di cui stiamo perdendo in gran parte il significato, è una abusata, l'entusiasmo, l'entusiasmo, l'entusiasmo. Me lo ricordo, primo esame di filosofia. Dunti, lei, perché ha scelto di fare filosofia? Io pensai, finalmente una domanda filosofica. Perché? E lo guardai e, come dire, recuperai i tessuti morti, l'energia dall'universo, rigenerai me, lo guardai negli occhi e dissi, per entusiasmo. Lui mi guardò e senza dire nulla, fece un passo indietro e aggiunse, non si preoccupi, le passerà. Ora, non mi è passata, ma il tentativo è stato reiterato più e più volte, sia nella mia carriera scolastica che in quella universitaria. Perché? Perché una persona entusiasta è una persona che ha una benzina dentro di sé che lo rende entusiasta e cioè la curiosità. Più è curioso, più è entusiasta, ma più è curioso, più è fastidioso. Io non so se avete dei colleghi, amici, parenti, non parlo del partner stasera, che però quando si fa una riunione, non so se ce l'avete presente, anche nel mondo del lavoro, è fantastico, fai una riunione, sembra banale, bisogna dire tre cose. E perché avete... Ma perché? Ma perché? Ma perché non te fai i fatti tuoi? Che campi cent'anni. Come mai adesso cominciamo a farci tutte queste domande? E il bello dei curiosi qual è? Che sono terribilmente contagiosi. E tu fino a quel momento non ci avevi pensato. Però effettivamente, eh già, è perché... è perché... lo vedi? Infatti, a Socrate, come lo chiamava Platone, il tafano di Atene. Perché? Perché un tafano che compito ha? Quello di pungere con una domanda, di solito impertinente, che cosa succede? Lì per lì sentite un dolore e poi un prurito. Resta lì. la domanda continua a lavorarvi dentro. Infatti, abbiamo un trattamento per i tafani o il DDT e per Socrate la cicuta. D'accordo? Beh, sì, funziona insomma, no? Ora, entusiasmo non mi è passato e ho continuato a domandarmi fra le sue etimologie che cosa ci fosse di tanto pericoloso. E ho scoperto che tra le etimologie di entusiasmo, enteos, c'è avere Dio in sé. Ora, voi mi direte, ma che cambiava averlo saputo? Ma avrei potuto azzardare risposte diverse, del tipo, non ammetto che lei bestemmi in mia presenza. Quante volte però, riconoscendo l'entusiasmo, ne siamo disorientati. Perché quel professore ha risposto così? Perché dove è finito l'entusiasmo? Che posto occupa nella nostra vita? Nella pensare questa relazione abbiamo dato il titolo umorismo e filosofia. Che ci azzecca l'umorismo con la filosofia? Niente, tranquilli. E invece l'elemento che li unisce è il fatto che il miglior filosofo è quello che resta curioso. Ma quello che resta curioso è anche quello più entusiasta. E di solito io, tra gli entusiasti più radicali, riconosco i bambini che non si fanno fermare davanti a niente. Per fortuna li scolarizziamo. Ok? Tranquilli. Non vi allarmate. Poi adesso c'è anche la pre-scolarizzazione. Cioè interveniamo prima perché, perché, vedete, Freud ci aveva detto, quando si formano le mappe mentali e quelle emotive, 0-6 anni, a posto, li prendiamo. Poi arrivano le neuroscienze e dicono, no no, 0-3 anni. Quindi pre-scolarizzazione. Perché se no interveniamo quando è troppo tardi. Ok? Con i nostri compartimenti stagni. con le nostre super mega specializzazioni. Con i nostri pregiudizi. Con le nostre categorie. Dobbiamo intervenire prima possibile. Perché? Perché i bambini hanno il difetto di essere pre-categoriali. E sapete perché fanno quel gioco dei perché? Perché rimettono ordine al caos. chiedendo perché, che cosa stanno ricostruendo? Il principio di causa ed effetto. Dato un determinato effetto, devo sapere qual è la causa. Qual è il compito della filosofia? Rerum, conoscere causas. conoscere la causa delle cose. Ancora. Io preferisco un altro slogan. Che te frega. Aspetta, aspetta, ce l'ho già pronto. C'è stato un periodo in cui andava. Me ne frego. Così suona meglio, no? Ma che te frega. Che succede? Che a un certo punto il pensiero critico, siccome è faticoso, finisce per essere indigesto. E si apprezza molto di più il pensiero superficiale, che non ha nulla che vedere con l'entusiasmo. Noi continuiamo a scambiare la leggerezza per superficialità. Ma basterebbe leggere Italo Calvino per scoprire che in una, anzi nella prima lezione americana, lui parla della leggerezza come un valore. Dice lui è planare sulle cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. pensate che bello. La leggerezza. Ma noi continuiamo a vedere la leggerezza come superficialità. Guardate come trattiamo gli entusiasti. All'interno degli ambienti di lavoro basta riconoscerli. Come ne trovi uno? Disegnano un bersaglio dietro la loro schiena e automaticamente viene isolato. Abbiamo metodi fantastici per isolarli, eh? Gli entusiasti. Frasi stupende del tipo mi ricordo la tua età. Anch'io ci credevo anch'io. E poi che ti è successo? Eh, poi ho smesso. Io la chiamo la congrega dei crepuscolari. Vi posso parlare un secondo della congrega dei crepuscolari? Non so, magari voi non ce l'avete. Però sto vedendo che è sempre più diffusa, eh? All'interno delle istituzioni, all'interno dell'università. La congrega dei crepuscolari chi è? È quella che oramai è stato vinto dallo spirito di gravità. Quella di cui parlava Nietzsche che diceva per lui precipitano tutte le cose. Le riconoscete subito. Perché? Perché hanno un tempo-ritmo che basta stargli vicino e già lo sentite. È una cosa tipo... Allora, finché stai su quel tempo-ritmo va tutto bene. D'accordo? Prima ti adegui, più sopravvivi. L'entusiasta non ha un tempo-ritmo come quello. Ha un tempo-ritmo che è jazz, ha il fuoco nelle vene. Di solito c'erano i giovani, ve li ricordate? I giovani, quelli di Pertini, io amo i giovani. I giovani, i giovani, quelli che... No, neolaureati, che uscivano dall'università e volevano cambiare il mondo. Ma per carità. Ma basta, ma no. Mi fai tenerezza. Che bello. Mi fai... Ma avete mai subito una roba del genere? Vi rendete conto di che... Non lo so, una ferita mostruosa produce. È come se vi trafiggessero. A me quando mi dicono... Che tenerezza. Ti vedo. E mi ricordi quando... Anch'io ci... E poi che... E poi è veramente tanto cocente che abbiamo sepolto gran parte del nostro entusiasmo sotto chilometri di terra. Perché? Perché abbiamo paura di dover soffrire ancora. E la congrega di Corpuscolari vince facile. Io lo dico. Sono i migliori boicottatori che io conosca. Sono quelli che dicono... Siamo all'ultimo atto di una tragedia che chiamiamo vita. Lo sai che moriremo tutti? Sì, lo so. Ma non sappiamo quando e nemmeno come. E nel frattempo nessuno ci ha detto che non ci possiamo divertire. No? Il crepuscolare è colui che già sa come andranno le cose. Nelle riunioni è fantastico. Perché non lo rivedete... Non lo vedete nelle riunioni. Perché? Perché è quello che si veste con una mimetica o del colore delle pareti della sala riunioni. Si trucca la fa... Scompare. Non c'è durante la riunione. Tant'è vero che tu dici... Ma dov'era? Non lo so. Dov'è andato? Dov'è andato? Ecco. Dov'è andato? Di solito armato del suo strumento privilegiato che è un trapano scende sotto coperta e comincia a praticare dei forellini. Poi torna sopra coperta e verso la fine della riunione ricompare. E voi dite, ma dov'eri? Non so, ero in zona. Inavvertitamente qualcuno gli chiederà, ma tu come la vedi? Secondo me affondiamo. Ora, la domanda è legittima. Ma com'è che ci azzeccano sempre? Il detto, no? I detti. I detti. Che ha detto? I detti. A pensare male si fa peccato, ma non si sbaglia mai. Cioè hai la garanzia del successo assoluto. Perché? Ma è semplice. Perché a forza di parlare male il male lo evochi. E anche se era distratto sentendoti, no? Magari, no? Chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Ora, gli annunciatori di morte hanno proseliti ovunque, anche perché adeguarsi a uno stile di vita da crepuscolare non è difficile. Prendete le trote. non ho molta dimestichezza con le trote, però le trote io le vedo, quando le vedo, stanno lì e che succede? Niente. Tanto è finito, è tutto finito. Non c'è più, basta, è finito. Tutti insieme. Che faccio? Niente. Stanno lì. Uuuuh. Si lasciano trasportare un po' dalla corrente, capito? Poi che ci sono? Quegli esauriti dei salmoni, l'avete conosciuti mai? Ma io dico, ma una razza di pesce più imbecille, che risale la corrente, va contro corrente, risale, sta corrente, dove vai? Niente, vado a depositare le uova e poi schiatto, cioè more. Ma dico io, in uno dei passaggi ultimi ci sono gli orsi che non fanno neanche la fatica di andarseli a pescare, stanno con la bocca aperta, perché loro saltano, capito? Gli saltano direttamente, i salti in bocca, salmone salti in bocca. Il salmone è un tipico esempio di esaurito che crede ancora di poter cambiare il mondo, andando contro corrente, ma io ci credo che posso cambiare il mondo, ma almeno il piccolo mondo che mi sta intorno, gente che fa la raccolta differenziata, roba da pazzi, perché ancora ci credono, ma chi ci crede? Ah è finita, è finita, butta dove te pare, tanto. La Cina, gli Stati Uniti, l'India, non hanno firmato il protocollo di Chioto, non firmano il protocollo, quindi? Dove butti tu l'immondizia? Ma chi se ne frega? Giusto? No che non è giusto, perché mio figlio, quando sarà grande, non lo so se andrà in Cina, gli auguro di viaggiare, a chiedere conto del mondo che gli ho lasciato, ma una cosa è sicura, verrà da me e mi farà una semplice domanda. Tu, mentre succedeva tutto sto casino, dov'eri? E soprattutto, che facevi? Ecco, io voglio trovarmi pronto a questa domanda. È importante, sapete, perché mi sembrerebbe brutto rispondere, vedi figlio mio nel mio piccolo papà, faceva come tutti gli altri. Ma questa capacità te la dà soltanto una cosa, il fatto di mantenere viva il tuo entusiasmo e la tua curiosità. Ma la curiosità è quello che ha spinto il genere umano oltre ogni limite, oltre ogni immaginazione. La curiosità, come disse una volta Shakespeare, è donna. Capite perché avete un sacco di problemi? sono millenni che cerchiamo di farvelo capire, ancora no? Eh? Avete presente anche questa storia del serpente? Dove va? Va dall'uomo o va dalla donna? Va dalla donna. Perché? Perché se andava dall'uomo dice, ah che schifo! E quando va invece dalla donna, gli chiede, perché la me la no? Già! Perché? Eccola la domanda origine di tutti, però infatti si dice mannaggia Eva, non si dice mannaggia Adamo. È iniziato tutto lì da un maledetto albero della conoscenza. la conoscenza dell'uomo. Ha una domanda fondamentale, che non è dove, non è quando, non è con chi, ma è la domanda perché? L'unica che non troverete in una certificazione di qualità ISO 9000. Ci avete fatto caso? Io da filosofo dentro un'azienda sanitaria, capitemi, dentro un'azienda sanitaria, mi dicono dobbiamo applicare la qualità. Perfetto, comincio a domandare, a vedere tutte le domande, non trovo quella perché. Dico, scusate, non è per deformazione professionale, ma manca il perché. Ah, ma quello, però bisogna farlo. Sì, ma perché? C'è la domanda, perché la sanità si chiama azienda? Sentito? Attenti agli entusiasti, sono pericolosi, i salmoni vanno sterilizzati prima, chiaro? Perché producono effetti, perché si chiama azienda sanitaria? Lascia stare, si chiama, ci hanno chiamato, perché è in contatto, perché ci sarà un motivo. Ecco, qual è? Potrebbe essere interessante porselo. Produrre utili? Produrre utili, ma l'azienda sanitaria pubblica non dovrebbe produrre utili, infatti non lo chiamano produrre utili, lo chiamano risparmi. E perché lo chiami? Ah, ancora? Sì, perché un curioso, se gli dai la, non la finisce più. Lui, infatti, mica ha finito qua, continuerà e attiverà la persona che gli sta... Non a caso si stanno attivando, perché è contagiosa. È per questo che abbiamo generato barriere, muri, specializzazioni, ordini, eccetera. Per cercare di mantenervi separati, perché non voglia di Dio, vi conoscete, iniziate a parlare. Basta con queste associazioni, eh. Che questi se vedono tra di loro parlano, capito? Allora, facciamo una bella associazione contro l'altra associazione, allora mi piace. Esatto, sempre lì. Che meraviglia. Visto? Ve l'avevo detto che si sarebbe attivato vicino a lui. E' sicuro? Di qua, eccoci, sta solo caricando. Di qua anche, con calma, poi, quando vi sentite un po' più sciolti. Perché vi dico questo? Perché i bambini, quando fanno la domanda perché, è bellissimo. E che non si fermano. Tu dici, mo' gli rispondo. Galimberti dice una cosa che mi piace da impazzire. Finché potete, tentatela una risposta. Lo so che non lo sapete, ma provaci. Buttati. Azzarda. Non negare il diritto di quella domanda, perché ti troverai dopo un adulto che non è più in grado di farne. Che meraviglia. Adulti che non fanno più domande. Ma qual è il sogno recondito di ogni docente? Un'aula che sta zitta. Tutti zitti. Guardate, recentemente mi hanno chiesto, come faccio a farli stare zitti? Non fa parte del programma. Rispondi così, non fa parte del programma. O l'alternativa può essere, come faccio a farli stare zitti? Ci sono delle tecniche, c'erano anche dei prodotti, ora non ci sono più. Il Ritalin, per esempio, era un ottimo prodotto. In odore, in sapore, lo scioglievi nell'acqua. Sbavavano un po'. Questo era l'unico inconveniente. Però, ottenevi dei risultati grandiosi. L'obiettivo non è come farli stare zitti. Il problema, secondo me, è tentare di conservare la loro capacità di fare domande. E magari di spingerle a fare anche le domande giuste. Questo è l'obiettivo più importante. Ma ve lo dico da genitore, sia chiaro. Perché quando i miei figli mi hanno bombardato di domande, io me lo ricordo. Non era solo l'ippopotamo. L'ippopotamo è facile. Ma sai, quando ti chiedono papà, perché esistono gli alberi? Non lo so, io ce l'ho trovati. Erano lì. Quando papà è nato, erano tutti in fila. Sarà un motivo. Non lo so, adesso anche questo è un problema. Lasciami in pace, cinque minuti. No, a papà. Poi, quando scoprono che magari hai fatto filosofia, la prima cosa che ti fanno, ti posso fare una domanda filosofica? No! Quando cominci a rispondere, di solito io come rispondo? Rispondo, vedi figlio mio, attraverso la fotosintesi clorofilliana scambiano anidride carbonica con l'ossigeno. Quattro anni gli parli di fotosintesi clorofilliana e anidride carbonica? Ma papà, qual è il risultato? Che sazietta, perché non ha capito. Come la zecca garbugli. Parla complicato. Eleva il tuo eloquio. Quando parli, usa termini tecnici. E vedrai che nessuno ti capirà. Come la dichiarazione dei redditi. Ha detto, come la dichiarazione dei redditi. O in alternativa, io ci sono alcuni medici che trovo fantastici, li adoro, che dicono, ma guardi, il paziente deambulava autonomamente sui propri arti inferiori. che faceva? Che faceva? Cioè, detto per genere, camminava da solo. Ma non ho studiato tutto per dire che camminava da solo. In effetti, la precisazione non è male. diambulava arti inferiori. Perché potevano essere quelli superiori. E quindi, tecnicamente, si era trascinato fuori. Me lo ricordo. In alternativa, all'eloquio, ma guardate che, io ho detto ai medici, ai avvocati, ogni disciplina, ha i suoi termini tecnici, no? L'ultima volta, con un avvocato, mi ha detto, scusi, abbia pazienza, ma gradirei che questa bottiglia rimanesse in tonza. In tonza. Vabbè, io, se lo dice lei, in tonza. Non è che non è italiano, non è che non è italiano, ma è un italiano, alto, colto, o semplicemente desueto. Che vai sul vocabulario a vedere che vuol dire desueto. Non si usa più. Tu. Noi? Sì. Perché? Perché il termine tecnico, fotosintesi clorofilliana? Ma l'obiettivo qual è? Che capisca? Tullio De Mauro, un grande linguista italiano, recentemente scomparso, è stato anche ministro, disse, le parole sono fatte per essere capite, non per essere dette. Se tu scegli le parole in modo tale che vengano capite, cambia. Non diresti mai che un biglietto deve essere obliterato. Mazzao. Io quando ho in mano sto biglietto, sto preoccupato perché lo devo obliterare, lo devi bucare, non scherzo, no, bucare, no. Recentemente ho visto in una cassa CUP, centro unico prenotazioni, c'era un cartello dove c'era scritto, i pazienti solventi sono pregati di munirsi di moneta divisionale. E io vedevo la gente che faceva, dice, tu sei solvente sì? Boh, non lo so, stamattina ero un po' solvente, ma, moneta divisionale. Vedevo gente che tirava fuori il portafogli, diceva, io ho questo, so euri, plurale, che l'euro è uno, euri, se me l'accettano in tutta Europa, lei li prende? Non lo so. Gli spicci, soldi, ma non possiamo scrivere soldi spicci, no? Fino ad arrivare a delle aberrazioni di comunicazione, in cui se andate per sbaglio a Roma, lo dico a tutti, e leggete varco attivo, non passate. Perché varco attivo sta ad indicare, tenetevi forte, che sono attivi i sistemi di rilevazione, dell'accesso. Quindi, chi passa, prende la multa. Eh? Ma dico io. Eh? È geniale. Sapessi quante casse ci abbiamo risanato, così dei comuni non hai idea? Da noi hanno fatto una cosa pazzesca, infatti sono crollate subito gli introiti del comune, hanno messo un disco rosso, con scritto chiuso. Chiudo. era facile, troppo facile. Tranquilli, l'hanno tolto. Varco attivo è molto meglio. Ma pensate, varco, varco, vi dà già l'idea, no? Eh già, eh, che te l'ho fatta apposta. Poi se è attivo, ti spingo proprio, no? C'hai, no? È meraviglioso. Quando io rispondo fotosintesi clorofilliana a mio figlio, non tengo conto della sua età, ma lui mi guarda sbigottito. A cosa si attacca? L'unica parola che finalmente riconosce e conosce. Quando dico, ci consentono di respirare. Respirare lo capisce, ci consentono di respirare. Papà, e perché respiriamo? Eccala, vedi? Tu ti sei fatto capire. E adesso? La domanda successiva. Perché? Perché più le persone capiscono, più conoscono, e più fanno domande. Oh, occhio, eh? Più non capiscono, più non si fanno domande, più non rompono le scatole. Oh, ma coi figli è uguale. Solo che quando sente respirare, respirare, ci consentono di respirare, lui si aggancia a quella parola, e dice, e perché respiriamo? Più difficile, ma anche questa, la so. Perché questo figlio mio, vedi, ci consente di vivere. La vedete anche voi, la fossa che vi siete scavati da soli, e che vi accoglierà? Sì? È quella, ok? Perché la domanda successiva, la famosa spinta dentro la fossa, è, e perché viviamo? Di fronte a questa domanda, o è posseduto, o vuole fare filosofia, che sono due disgrazie uguali, ve lo dico subito. Allora, di solito abbiamo strutturato quattro risposte possibili. La prima, perché sì? L'avete provata, no? Perché sì? Perché sì? Perché sì? I bambini sono fantastici perché fanno un salto linguistico non autorizzato e dicono e perché, perché sì? Perché non lo so! L'alternativa è perché no. Ma quella che mi... No, aspettate, prima di arrivare alla migliore in assoluto, c'è l'intermedia, che è sempre buona, ve la consiglio. Chiedilo alla mamma, che sicuramente lo sa. Teneva. Il collega, tra un attimo, è da lei, intanto, va bene? Sì, ma dottore che c'ho? Eh, adesso, non so, arriverà qualcuno, no? Glielo dirà. Ma io lo voglio sapere da lei, ma perché proprio da me? Questa è la terza. La quarta, è anche su esperto, non tocchiamo l'etimologia di esperto, perché potremmo scoprire che vuol dire colui che ne ha fatto esperienza. Quindi, tecnicamente, il più grande esperto della malattia è colui che ce l'ha. Il malato. Chiaro? Questo, perché ce l'ha. Quindi sta facendo proprio l'esperienza. Esperto, no? Chi è? Lei è esperto, ci conosco tutto in teoria. Benissimo, allora, avanti il prossimo. Ma lei ci è mai passato? Sì, ok, allora è un esperto. Sediamoci. Quarta risposta, fantastica, che è di solito, figlio mio, lo capirai. Quando sarai più grande. Che non vuol dire nulla. Lo ricordo, l'ho vissuto all'università, un mio collega di università fece una domanda al professore e disse, vorrei capire, non ho capito la differenza fra i sensi di esistenza, sembra poi, che anno è lei? Lui disse, il secondo anno, bene, al quarto anno, non farà più questa domanda. che lo capirai. Ma non è un problema, è chiaro che no, ma non è un problema, perché sono tornato da lui al quarto anno, glielo ho detto, ma l'hai capito? No, io ancora brangolo nel buio, e studiagli più, che te devo dire, no? Ma anche Freud sapeva come fare, se Jung arrivava e gli diceva, scusa, ma è possibile che tutto la libido, no? Due o tre cosine, no, ti sei proprio fissato, fai più analisi, vedrai che poi capirai anche tu, fantastico, è un ottimo modo di rispondere, lo capirai quando sarai più grande, ma non sono fessi. Io quando mi chiedono, faccio i miei corsi di comunicazione, mi dicono, ma dove possiamo esercitare? Esercitatevi con i bambini, sono i personaggi meno accondiscendenti che io conosca, se voi non ci mettete passione in quello che dite, se non siete convinti di ciò che state dicendo, non li convincete, non sono come gli adulti che sono a sue fatti all'incoerenza. Loro sono fantastici perché se non sentono, non capiscono, sentono di potersi fidare, si alzano e se ne vanno, sono meravigliosi. Noi abbiamo imparato a fare una cosa fantastica. Che hai capito? Niente. Però, oh, sentito come parlava? Ho usato quel termine, ma tu lo sai che vuol dire? No, niente. C'era nonna mia che era disperata il giorno in cui gli hanno messo la messa, gliel'hanno tradotta in italiano. Era disperata, diceva, ma non si può ritornare al latino che non capivo niente di quello che dicevo. ma ripetevo, raccometterna, 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 ma che vuol dire? Non lo so, se sbagliava anche se sbagliava anche il latino. Vabbè, ma adesso mi ha messo in crisi. Ma l'obiettivo doveva essere quello. Se non entri in crisi non funziona. Sapete quanto entusiasmo ci vuole per essere disposti a farsi mettere in crisi? Sapete quanta curiosità serve per sostenere e reggere un dubbio? Sapete quanto è forte quello che continuiamo a chiamare il sesso debole? Sostiene le domande, mantiene la curiosità, sono la cosa più vicina ai bambini se non hanno rinunciato alla loro femminilità. Eh sì, perché una domanda è capace di smuovere il mondo, perché il pensiero critico che è il cuore della filosofia ha bisogno di entusiasmo, ha bisogno di coraggio. Wittgenstein quando scrisse il trattato logico-filosofico costruì un sistema praticamente perfetto. Era molto orgoglioso del lavoro che aveva fatto. Aveva schiere di proseliti, gente che lo seguiva, lo adorava, ma ad un certo punto la sua onestà intellettuale lo pose di fronte al limite di tutto ciò che aveva fatto. Il sistema non reggeva. E sapete che fece? Se ne andò dove? A insegnare nelle scuole elementari. Immaginatevi Wittgenstein che va dai bambini e grazie al confronto con loro torna dopo aver perso tutti i proseliti, tutti quelli che gli andavano dietro e lo veneravano come un celebrità e scrive le ricerche che dicono l'essatto contrario di ciò che aveva scritto nel trattato con un preambolo semplicissimo mi sono sbagliato che coraggio che coraggio con quale moneta dice Wittgenstein si paga la filosofia? Con il coraggio ci vuole coraggio per mantenere una domanda ci vuole una spinta propulsiva straordinaria che deve arrivare da molto lontano l'entusiasmo è figlio della curiosità e la curiosità è l'elemento che ci rende liberi vedete l'umorismo non è che è una strategia per mantenere vivo l'entusiasmo perché ci sono momenti nei quali prevarrà lo spirito di gravità ed è giusto che sia così ma deve esserci sempre un dopo in cui si recupera quella leggerezza di cui parlava Italo Calvino una leggerezza delle effimere farfalle che durano neanche un giorno ma che sono capaci di mettere in crisi intere fortezze in un bellissimo testo di Italo Calvino poco conosciuto che si intitola appunto le effimere le effimere le farfalle le stesse bestioline maledette che seducono Zarathustra a lacrime e canti farfalle e bolle di sapone sì perché queste animucce leggere e stolte dice Zarathustra seducono a lacrime e canti perché hanno capito come si vince lo spirito di gravità è affascinante perché quando io parlai con Nietzsche a proposito vi saluta quando parlai con Nietzsche ce ne sono anche altri che vi salutano però lui disse guarda io lo spirito di gravità l'ho affrontato più volte e ho provato sempre a sconfiggerlo attraverso la rabbia con l'ira e lo sai qual è stato il risultato? L'ho reso più forte si dice in un proverbio antico il diavolo ama chi lo odia odia chi lo ama perché se lo odi stai facendo il suo gioco alimenti l'odio bisognerebbe andare verso le integrazioni piuttosto che verso i rifiuti ok? ma la cosa interessante è che tutto questo per me ha rischiato di rimanere astratto finché per pura coincidenza non ho incontrato un'antica sapienza degli indiani d'america i quali ah scusate prima di questo salto logico Nietzsche dice l'ho tentato di uccidere con l'ira l'ho reso più forte cosa può sconfiggere lo spirito di gravità? il riso non basmati non mi fate prima che pensate dice ah con riso ecco perché le coltivazioni di riso no il riso l'umorismo la risata potrai credere ad un dio solo se sapesse danzare la leggerezza la capacità di ridere satira è l'anagramma di risata questo pochi magari ci hanno pensato ma tutto questo ha rischiato per anni di rimanere teoria finché 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 non l'ho incrociato con una storia una storia degli indiani d'america e qui uso la lavagna perché sennò dicono che ce l'hai messa a fare c'è una leggenda che parla di come per gli indiani d'america i punti cardinali fossero cinque e già qui capisci perché si sono estinti no quanti sono i punti cardinali dai non scherziamo quanti sono qua quattro so quattro no che è qui ma per vedi guardali perché è un indiano lasciate infatti si estingueranno tranquilli soprattutto se li isolate bene basta non invitarli più in questi incontri ora gli indiani d'america dicevano allora per noi i punti cardinali quali nord vi semplifico la vita sud est e ovest giusto ok al nord gli indiani d'america mettevano la spiritualità al sud mettevano la materialità mi seguite? poi posizionavano l'emotività e la razionalità spiritualità materialità razionalità ed emotività fantastico e si ma ne manca uno io li sento dicono sempre più piano oramai sono terroi dice io ci vedo una croce no loro ci vedevano una circonferenza erano tutti collegati ma c'è un solo modo di essere equidistanti e cioè di avere il massimo equilibrio fra tutte queste componenti ed è quello di individuare il centro perché il centro mi consente di avere la distanza giusta da tutte queste componenti e sapete che cosa mettevano al centro? l'umorismo quell'elemento che ti rende capace di essere equidistante da tutti i punti né troppo vicino né troppo lontano vedete io credo che la ragione per cui non stia più funzionando è che perché spesso crediamo che l'umorismo sia un modo sconveniente di vedere le cose sapete quando l'ho capito quando mio figlio Matteo un giorno torna a casa con un fogliettino per la festa del papà aveva questo fogliettino in mano era tutto emozionato venne da me me lo ricordo me lo dette in mano mi disse papà è la festa del papà ti ho scritto una cosa li vedi sudano che scemi che sudi eh non devi avere paura figlio mio o quantomeno che non si veda e che mi diventi le vedete no sono irrequieti si muovono per fortuna gli insegniamo a non farlo basta sta seduto in fila per tre per piacere per piacere e che è tutta quando viene all'interrogazione per favore eh compito da mi dà questo fogliettino lo apro e dentro c'era scritto io voglio tanto bene al mio papà perché mi fa ridere virgola a capo ed è sempre molto attento a tutte le mie esigenze matti vieni qui che c'è papà niente non ti è piaciuto mi è piaciuto l'hai scritto tu la prima parte sì e la seconda me l'ha fatta aggiungere la maestra io ho chiesto e perché perché ha pensato che se no ti saresti potuto offendere ti voglio bene perché mi fai ridere ma chi vorrebbe sentirselo dire difatti le persone quando escono dai miei corsi mi dicono mi sono divertito senza offesa eh ma non è straordinario senza offesa ma perché mi dovrei offendere non sono offeso ma che c'è successo da quando ha vinto lo spirito di gravità per cui un corso di formazione funziona solo se quelli che escono dicono madonna mia tosto è mamma mia non vedevo l'ora che finisse oh questo te è servito che è successo perché non può essere divertente quando ridiamo spalanchiamo la bocca se vi vedeste da qua siete bellissimi aprite la bocca oddio mio come si sorrida come ride la gente si mette la mano davanti non mettete le stelle ma che è successo no se vedono le capsule le otturazioni Gandhi era fantastico ci sono delle foto meravigliose dove lui ride aveva tre denti è fantastico perché si abbattono le nostre difese quando ridiamo capiamo che non abbiamo più nulla da perdere che non c'è nessun pericolo e non avete idea di quante cose si apprendono divertendosi o meglio ce l'avete l'idea perché tutto quello che abbiamo imparato e l'abbiamo appreso lo abbiamo appreso attraverso il gioco noi non facciamo eccezione troppo veloce vado più piano rallento ritorno scusate ancora il fuoco ogni tanto riparte sono stato ad un convegno di etologi eh sono stato ad un convegno di etologi coloro che studiano il comportamento degli animali dice come mai ci si è finito non lo so io finisco in convegni assurdi dove come mai l'ultima volta era un convegno di cardiologia non so come mai però utilissimo convegno di etologi che era stato fatto per quale ragione sentite perché avevano fatto una scoperta sensazionale i serpenti giocano e uno pensa ma qual è la scoperta che giocano non capisco e infatti si vede che lei non è etologo perché i serpenti sono animali a sangue freddo giusto? sì ogni movimento gli costa uno sforzo infinito ci siamo? vuoi che lo sprechino giocando? ma vedete sprechino giocando ma chi l'ha detto che giocare è uno spreco? tutti gli animali imparano giocando il gioco è una cosa seria quando giocate con i bambini non vi guardate uno immagina come la prima cosa che vi chiedono i bambini è quali sono le regole giocate con i bambini la prima cosa che vi chiedono è quali sono le regole che c'è successo? giochiamo senza più sapere quali sono le regole guardate che le regole sono scritte nero su bianco sulla nostra costituzione non ricordarsi di quali sono le regole è grave gravissimo ma che te frega ma lascia fa mi piacciono quelli che dicono quando vengono nel nostro paese quelli che vengono nel nostro paese gli strani che vengono nel nostro paese dovrebbero sapere la costituzione italiana beh bravo tu la sai? no mica la devo sapere io io sto nel mio paese ce sto io ce sono nato è la mia i migliori sono quelli che dicono è la costituzione più bella del mondo quindi l'avrai letta no no però è bella ce l'ho sul comodino vicino a Treccani la costituzione diceva Calamandrei in una bellissima lezione che fece a Milano è un pezzo di carta è una macchina se non gli metti la benzina non funziona si può persino calpestare abbiamo bisogno di interpretarla ecco interpretarla interpretarla e di capire che quella costituzione è stata scritta col sangue eh sì di molti caduti molti c'è bisogno di questo c'è bisogno di fare questo passaggio ma che diavolo è successo da quando la formazione è diventata pesante da quando siamo diventati così tremendamente seri da quando le lezioni diventano noiose muore tutto se non c'è entusiasmo siamo diventati necrofili necrofili la necrofilia ci piace a roba morta così lo traduco l'ultima volta l'insegnante a mio figlio gliel'ha chiarito subito dunque io sono l'insegnante di latino e il latino è una lingua morta ma sarà pur vero ma non presentargliela così dice che facciamo dissezioniamo cadaveri oggi il corso di anatomia patologica inizia ma se non c'è entusiasmo in quello che dite muore tutto la vita ha bisogno di essere interpretata ha bisogno di leggerezza ha bisogno di divertimento impariamo in questo modo è per questo che dicono finché sono piccoli insegnateglielo l'inglese finché sono piccoli sì quello c'è ragione niente mi sono rivolta alla persona sbagliata vado a dire lui neanche vado a dire vabbè insomma là dietro ci sarà qualcuno ha detto dice così dimenticano anche l'italiano fantastico no ma per dire lo sci finché sono piccoli giusto? è fantastico io vado qui in zona iscrivo con i miei figli e vado lì dalla persona e dico buongiorno vorrei iscrivere due persone adulto o pampino io dico bambino ah meno male e penso perché? perché adulto è difficile adulto ci sono gruppi di auto mutuo aiuto di insegnanti no veramente di insegnanti di sci perché? perché guardate come funziona un bambino un bambino è fantastico il maestro l'avete mai visto? c'è qualcuno che fa maestro di sci? ah suo figlio ecco fantastico me lo saluti a tutta la mia solidarietà allora che cosa dice ai bambini il maestro? fai come me punto non dice altro e vedi questi deficienti che gli vanno dietro l'avete mai viste quelle saette? finché sono i figli degli altri non ci fai caso ma quando c'è tuo figlio saetta è inquietante eh come i genitori che dicono ai figli che devono imparare ad andare in bicicletta vai piano vincendo ogni legge della fisica che se va piano è il momento che cade dovresti dirgli va veloce perché aumenta la stabilità vabbè l'adulto quando va a fare un corso di sci è bellissimo perché il maestro dice allora vengo in pace non ce l'ho con lei glielo giuro le voglio bene d'accordo? allora questi si chiamano sci sono due perché perché i piedi sono due quello la testa a valle il sedere a monte prima resistenza la testa mi hanno insegnato che la parata che pesa di più sono così deficiente che la metto a valle verso il pericolo giammai la testa la testa la metto al sicuro a monte e il sedere a valle fanno dieci centimetri vabbè dai un metro cadono per terra feedback della realtà negato che cosa diciamo non sono fatto per gli sci non facevo meglio a fidarmi di quello che mi diceva lui io li ho trovati fantastici i miei figli perché sono tornati dalla prima lezione di sci e parlavano così e siamo andati abbiamo fatto la pista nera balla sono divertito col maestro ma dico ma Tommy ma come parli non lo so il maestro parla così ho capito ma dice ma servirà non lo so tralasciando la parte del bombardino e tutto il resto comunque andando andando al succo grazie perché vi dico questo perché l'umorismo è una leva straordinaria lo so lo so a volte il compito diventa difficile i comici sono spaventati i guerrieri sì perché a me tocca sempre al giullare di gridare il re è nudo e di trovare quel coraggio perché forse perché forse il giullare è quello che conserva un cuore da bambino che gli dà il coraggio di dire la verità anche quando gli altri non la vogliono sentire ed è quella la parte difficile quando i miei figli magari ridendo e sorridendo magari facendosi il solletico ti guardano negli occhi e ti dicono ti voglio bene e senti che arriva da un mondo incontaminato e gli indiani d'america nice sì 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 ma tutto troppo astratto ancora troppo vago dov'è che tutto questo è diventato vero almeno nella mia esperienza perché solo di quella vi posso parlare è diventato vero il giorno in cui sono andato da mio nonno ora è possibile che su questa cosa io mi commuova ma semmai la tagliamo sta parte attingo a un ricordo molto vivo ancora oggi mio nonno è morto però in realtà è vivo vabbè poi questa io andai quattro giorni prima che morisse in ospedale e lo vedi per quella che era l'ultima volta ma io non lo sapevo lui era molto malato l'avevano aperto e soffriva in quel momento e io mi avvicinai a lui dicendogli la frase che avevo sentito a dire ai grandi nonno come stai e lui disse male molto male e dissi la seconda frase che avevo sentito dire agli adulti ed era vabbè dai nonno stringi i denti lui mi guardò e poi mi disse volentieri ma sono sul comodino fu quello il momento in cui iniziamo a ridere come non avevamo mai riso mio nonno era un giullare niente male e un attimo dopo iniziamo a piangere come non avevamo mai pianto io lì scoprì che mio nonno aveva i condotti lacrimali prima d'allora pensavo non ne avesse ecco credo che in quel momento lui mi passò il testimone o l'eredità più importante credo che un attimo dopo lo portarono su una carrozzina a rotelle e lo stavano portando via per fare dei controlli e lui a metà strada cominciò a gridare mamma mamma tutti i sanitari intorno preoccupatissimi e lui disse mamma sono tanto felice che ci è successo per chiamare questa demenza senile arteriosclerosi per non riconoscere la saggezza quando è seduta su una sedia a rotelle perché il messaggio è semplice ma è potente moriremo tutti hanno ragione i crepuscolari ma quando la vecchia signora arriverà diceva mio nonno fatevi trovare vivi grazie bene un filo di pausa ah ma romai adesso ricomincia da qua si c'è poi quello lo faremo ricominciare si con qualche grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando andai da lui e gli dissi che avevo intenzione di scrivermi a filosofia, lui mi disse ma perché non ti droghi come tutti gli altri che a quello eravamo pronti? Quindi aveva ripreso dal nonno quanto a senso dell'umorismo, però mi comunicò che non era molto convinto della mia scelta. E allora mi pose un obiettivo per cui credo di averlo odiato nei primi anni di università. Mi disse convincimi che è la scelta giusta. E pose due asticelle e disse minimo degli anni, massimo dei voti. Io l'ho detestato per questo. Però, l'anno in cui mi sono laureato in anno di corso e con il massimo dei voti, ho messo una piccola pietra miliare nella mia autostima. E ho cominciato a capire che se ci credi, si può fare. A volte serve qualcuno che metta anche le famose regole di cui non vogliamo sentir parlare solo perché spesso chiediamo molto più, io da figlio ve lo garantisco, l'ho fatto, chiedo molto più il rispetto dei miei diritti piuttosto che cominciare a sviluppare la responsabilità di, come dire, interpretare i miei doveri. Perché si può chiedere solo ciò che si è disposti a dare. In gran parte si legge la Costituzione come un elenco di diritti mancati. Io l'ho letta al contrario. Io l'ho letta come una serie di doveri cui io ho mancato. Bisognerebbe iniziare a leggerlo in questo senso. Credo che il ruolo più difficile di un genitore alla fine sia questo. Mio padre, oggi che è in pensione, ha sviluppato una serie di studi alternativi, come li chiama lui, che erano quelli umanistici. Per lui è New Age. Allora, lui dice, no perché voi, 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 per anni mio padre aveva il problema di dire, senti Nicolo, ma che fai? Capite? Quando lei mi ha chiesto, ma sta conferenza che facciamo? Mi dice, rivedo papà in questo. Sì, ma quindi alla fine, no? Perché se nasci medico, fai il medico, se fai il biologo, fai il biologo, se fai il veterinario, fa il veterinario, se fai il genetista. E tutta questa serie di compartimenti stagni in cui una volta che ci sei dentro ti senti anche un po' più al sicuro. Stai più tranquillo. Ecco, personaggi come Gregory Batson, come Lemire Zolla, come Marshall McLuhan e tanti altri, sono stati estromessi. Lo stesso Nietzsche, il primo periodo non è stato considerato un filosofo, sappiatelo. Uno, strano, poetico, dicevano. Troppo poetico. Ma perché un filosofo non può essere poetico? Ma perché non può esserlo? Nietzsche per anni ha sentito e subito l'ostracismo, ma lo sapeva. Diceva, signori miei, io sono dinamite. Sono qui per far saltare un po' di certezze. Ok? Noi abbiamo le garanzie dei compartimenti stagni. Ma pensatori come Gregory Batson, che cosa hanno fatto tutta la vita? Hanno costruito relazioni. Pensate alla struttura che connette, di cui parla Gregory Batson. Lui era molto più interessato a ciò che c'era dietro. Ciò che teneva il tessuto. Era interessato alle sinapsi. E per questo, quando lo nominiamo, non sappiamo mai come definirlo. Chi è Gregory Batson? Ha un antropologo? È un biologo? È un... Uno naif. Uno strano. Uno strano. Non è strano. Ha solo un modo diverso di studiare. Non studia per approfondimento, ma studia per connessioni. Studia per simpatia. Non so se rendo l'idea. È solo un modo diverso. Sia chiaro. Vorrei fugare ogni equivoco. Non sto dicendo che uno è meglio dell'altro. Servono entrambi. Serve chi approfondisce e serve chi connette. Solo dall'unione di questi due fattori possiamo avere la migliore visione. Abbiamo bisogno di chi approfondisce anche nel corpo umano. Si può arrivare alla genetica, alla cellula, al gene e via dicendo. Benissimo. Giustissimo. Ma altrettanto serve chi non si dimentica dell'intero. Senza bisogno di arrivare a chiamarla medicina olistica. È solo la medicina ipocratica. Non è la medicina olistica. È ipocratica. Tant'è vero che ippocrati dicevano non esistono i malati, esistono persone che hanno una malattia. Guardate, le parole sono importanti. Dire una persona che ha una malattia... Intanto, guardate, ippocrate era preciso. Non diceva persone. Diceva persona. Usava il singolare. Accidenti, l'italiano, c'ha ragione lui. L'italiano è una lingua bellissima, ma è difficile, è difficile. Ha stabilito il singolare e il plurale. E c'è un motivo per cui si usa il singolare e il plurale. Sono stanco di sentire i medici che parlano dei pazienti, degli insegnanti che parlano dello studente, scusate, del paziente, il paziente, il bambino, lo studente. Non esiste lo studente, non esiste il paziente. Esistono gli studenti, i pazienti, le persone. Lo so che è sconvolgente, anche perché il fatto che una terapia abbia funzionato con lui non implica in alcun modo che funzionerà con lei. La comunicazione di un docente, il fatto che abbia funzionato con uno dei suoi studenti, non implica che funzionerà con tutti. E dice, quindi che devo fare? Eh, devi cambiare. Ogni volta. Una faticaccia, eh. Se ti illudi che ci sia un paziente, uno studente, un cittadino, allora è un'illusione che costruisci. Funziona con uno, funziona con tutti. Ti semplifichi la vita, la pluralità, la pluralità dei saperi, la pluralità delle persone. È fondamentale. Con mio padre, oggi, mai come oggi, abbiamo ristabilito un dialogo che per anni è proseguito su due canali paralleli. Lui approfondiva e io collegavo. Oggi ci riparliamo e ognuno riconosce il valore e la dignità dell'altro. Grazie. Raccontaci un po' di medici di serie A, medici di B. Di serie B, medici. Allora, io dico spesso... Mi rialzo. Non so stare seduto, scusate. Allora, faccio fare una fatica enorme a chi tiene la telecamera, che mi muovo. Allora, il riferimento credo che sia al fatto che io dico sempre che le specializzazioni sono utilissime, per carità, però il medico che vede l'intero è il medico che non ha mai rinunciato all'immagine originaria della persona che è poi quella che emerge dal vero atto medico cioè il vero atto medico inizia sempre con una anamnesi che non è un termine scientifico è un termine filosofico anamnesi o reminiscenza ne parlava Platone rispetto a quello che Socrate aveva disegnato come il percorso della conoscenza che non è mai un conoscere qualcosa di nuovo ma è sempre un ricordare ciò che abbiamo dimenticato l'anamnesi è il primo atto medico l'anamnesi è un momento di straordinaria importanza perché? perché un buon comunicatore è prima di tutto un buon ascoltatore e nell'anamnesi si ascolta il paziente e qual è il valore dell'ascolto? sempre Tullio De Mauro ricordava guardate che non è un caso che gli dei ci hanno dato due orecchie e una sola bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà questo in realtà era Gorgia che lo diceva perché è tanto importante ascoltare? perché l'esperto ce l'hai davanti e quindi tanto più tu sai ascoltare tanto più tu saprai collegare e generare quel magnifico rapporto di fiducia che è indispensabile perché ci sia un'adesione al cosiddetto piano terapeutico è indispensabile se salta quello salta tutto non so se rendo l'idea noi oggi non assistiamo più all'anamnesi come era fatta io medici ne ho visti straordinari uno in particolare se volete posso raccontare? racconto ce la fate? sì? ok io un medico straordinario l'ho visto era uno specializzando io li riconosco gli specializzandi perché hanno una camminata diversa dagli altri non so se l'avete esatto bravo l'entusiasta lo riconosci subito perché ha una camminata stretta cammina così ok? poi ha il camice abbottonato sempre invece i più navigati hanno il camice sbottonato e la camminata è una falcata molto più lunga che gli consente di arrivare prima al letto del paziente ok? lo specializzando che entrò quel giorno aveva con sé un in cui ho visto fare l'apoteosi dell'anamnesi aveva un librone rosso e entrò nella stanza dove c'era ricoverata mia zia e dove c'era a fianco al letto suo una paziente con una diagnosi di demenza senile quindi era interessante vedere come si mettevano in relazione con lei come ti mette in relazione con la demente? con la bambina poi come stamattina quella parla manco l'ascoltata è demente? no? c'è scritto lui entra nella stanza e poggia il suo libro e dice signora buongiorno la posso disturbare un attimo? già qui io come dire vengo catturato da una strana frase inusuale come me puoi disturbare? tocca il momento la signora dice eh sì sì le dovrei fare qualche domanda eh lo so però adesso io stavo prendendo il tè prende un tè con me dottore volentieri volentieri io abbandono mia zia che poteva anche morire ma e comincio a tenere d'occhio questa anomalia nel sistema sapete sono piccole anomalie e che e lui si mette a sedere e comincia ad ascoltare questa donna che è come un fiume in piena no? avete presente i logorroici ce li avete come ecco che di solito con i logorroici come ci comportiamo nella maniera più sbagliata cioè cominciamo a fare sì ho capito va bene sì va bene sì quindi che pensate che il logorroico non se ne accorge diventate il suo bersaglio ideale non la finirà più lui fa un'operazione lui fa un'operazione inversa e cioè comincia a manifestare serio interesse per ciò che sta dicendo dopo un po' la signora vedendolo così interessato si interrompe e dice dottore un momento che devo andare in bagno e va bene lui nel momento in cui la signora era in bagno apre il librone e comincia a trascrivere tutta una serie di informazioni che evidentemente nel mare che aveva aperto nella diga che aveva aperto aveva captato quando la signora riesce dal bagno lui richiude il librone e dice signora io la ringrazio lei è stata molto gentile ma sa io devo proseguire il giro dei pazienti la signora dice avevo anche due pasticini dottore lei non no grazie signora sa mi stanno aspettando e lei dice va bene non insisto le chiedo solo un'ultima cortesia posso signora mi dica la posso abbracciare che schifo c'è il rischio biologico lui dice sì signora certo non avete idea o forse ve lo cominciate a immaginare che cosa ha significato per me vedere queste due persone abbracciarsi erano come due mondi che finalmente si vedevano e si toccavano la signora inizia a piangere il medico fa un passo indietro e dice signora ho fatto qualcosa che l'ha disturbata lei risponde no dottore è che è tutta la vita che sto aspettando un momento così questo è indubbiamente un medico che si ricorda degli insegnamenti di Ippocrate che conosce la deontologia professionale e che sa che prima di esserci delle malattie ci sono delle persone perché poi spesso mi capita di sentire dei medici che mi dicono ma io sono un medico eretico mi piace questa definizione di medico eretico dico come mai lei è eretico fa delle sedute sataniche disseppellisce cadaveri che cosa fanno no è che io con il paziente ci parlo guardi sappia che non è proprio un'eresia questa questa è la dottrina ma che è successo eh già che è successo è successo che chi è nella dottrina si sente eretico e chi è eretico si sente nella dottrina cioè i valori si sono capovolti cioè conosco medici che sono veramente in trincea in questo senso sono in trincea ma non nei confronti dei pazienti nei confronti di chi gli sottrae tempo all'elemento forse più importante io poi non vorrei parlare solo dei medici io voglio parlare anche degli infermieri degli operatori sociosanitari dei fisioterapisti c'è un mondo nella sanità si finisce per parlare sempre del medico non è giusto non è giusto anche in termini percentuali gli infermieri sono molti di più anche in termini percentuali il tempo che vediamo noi un infermiere è molto maggiore quando siamo in una degenza ospedaliera e l'infermiere deve sapere che può trasformare la nostra degenza da un inferno al paradiso a seconda di come si comporta non delegando gran parte della responsabilità al medico c'è una responsabilità enorme nel prendersi cura delle persone ok io voglio che questa irisia sia sfatata una volta per tutte parlare con un paziente è il primo atto terapeutico ok il semplice fatto di ascoltare una persona è già un modo significativo di essergli d'aiuto diceva Carl Rogers eh non so se rendo l'idea comunicare con un paziente è già un atto di cura è già un atto di cura e se io non riesco a comunicare con un paziente vuol dire omissione di soccorso vuol dire che sto sbagliando è quella l'eresia non l'altra d'accordo? su questo scusate io mi infervoro un po' ma perché vorrei far arrivare anche attraverso questi mezzi e queste occasioni la mia solidarietà nei confronti di tutti quegli operatori della sanità che nonostante il tentativo reiterato di togliergli tempo e di toglierglielo anche attraverso la burocrazia ma io parlo anche con gli insegnanti è uguale è il meccanismo è lo stesso si passa attraverso la distruzione delle istituzioni il progetto è abbastanza semplice non voglio fare il complottista ma è semplice da anni oramai si parla di aziendalizzazione da anni oramai si parla nella scuola di debiti e crediti i debiti e crediti cioè io spero che nella scuola la prossima riforma sia sullo spread nella scuola lo spread della scuola no? che la tua scuola che rating ha? non so si finisce per promuoverli perché se no finiamo troppo in basso nella classifica dopo non vengono da noi eccetera ma stiamo parlando di un'aberrazione ci sono degli insegnanti ci sono degli operatori sanitari ci sono dei cittadini dei liberi professionisti degli imprenditori che stanno resistendo non è esagerato dire che siamo davanti ad una seconda resistenza l'attacco è frontale o meglio magari lo fosse è molto più subdolo è insidioso si insinua è il programma quale? è la checklist? è il tempo che non c'è per parlare con il paziente? non c'è più tempo non c'è più tempo ma quante volte abbiamo detto questa frase? vorrei ma non c'è tempo è per questo che trovo già una cosa meravigliosa vedere tanta gente qui stasera che sta investendo il suo tempo non sprecando siamo sempre disposti a pensare quanto tempo sprechiamo ma avete visto? che meccanismo senza cervello decerebrato che corre 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 dicono a Roma andò corri mandò corri ci sono le buche corrono corrono tutti oramai io non ce l'ho con chi corre sia chiaro io ho tanta stima per chi corre però stimo anche quelli che vanno piano l'avete visto ultimamente chiunque voglia fare qualcosa per il suo fisico che fa? io l'ascolto il mio corpo quindi e quindi lo porto in degli ambienti chiusi con una musica che lo aiuta nel ritmo una puzza di sudore mostruosa un rullo sopra il quale tu corri e resti sempre fermo ma è una cosa un criceto e paghi pure per fare il criceto è stupendo poi ci sono quelli che corrono sulla statale vi prego è pericoloso quelli che si comprano tutti i catari frangenti che escono sembrano Robocop l'avete mai visti sono tutti colorati corrono perché devi correre i migliori sono quelli che dicono io faccio la camminata ma veloce cioè finalmente c'era uno che camminava no perché brucia di più brucia brucia ma stiamo prendendo già a fuoco siamo tutti in burnout è una società che è già bruciata non so se vi rendete conto c'è gente che viene giudicata questa alternativa perché dice io vado in montagna e cammino ma veloce no piano no no ma proprio piano piano lentamente e mi godo ogni maledetto passo eh ci avete presente i racconti degli scerpa con tutti quegli esauriti occidentali che vanno sull'Everest e iniziano la scalata e sono lì lo so lo so lo so sono gli scerpa che fanno te preoccupa te preoccupa questo tempo tre minuti quattro eccolo guarda ha già finito debito d'ossigio vedi loro sono una roba inquietante li vedi e quando ci arriviamo su no la domanda non è quando è se arrivarci vivi lassù e anche tornare giù che non è un'operazione semplice l'ultima volta ho sentito l'intervista di uno scerpa che è salito sull'Everest 20 volte no e come ha fatto è andato piano vai lento hanno fondato recentemente la slow medicine per forza l'hanno chiamata slow medicine perché se no lo dici in inglese non fa fico che vuol dire medicina lenta e qual è la medicina lenta è quella di Ippocrate perché Ippocrate diceva quando una persona si ammala la devi togliere dall'ambiente in cui si è ammalato no che intuizione e come mai perché ci si ammala non solo degli agenti patogeni ma anche delle relazioni patogene quindi lui li prendeva e dove li portava nell'isola di Kos ora io potrei farvi vedere immagini dell'isola di Kos ma generano una frustrazione immensa in tutti coloro che sono costretti ad andare all'ospedale toglili dall'ambiente in cui si sono ammalati per metterli in ambienti migliori no sul serio beh ma scusa migliore di un po' dell'inoleum il grigio sulle pareti e un ottimo neon e qua non te ricapita me vorresti mettere a paragone le palme gli scogli il mare della Grecia che già stai meglio se lo vedi capito? quando Tiziano Terzani parla della sua esperienza in un ospedale indiano dice c'era un ospedale c'era un elefante dentro l'elefante noi per portarci un gatto un cane dovemmo fare 12.000 permessi 72 cose no c'è rischi batterie cose questi ci tenevano un elefante dice funziona e che ne so però intanto vedi sta gente che arriva lì lo tocca un po' di pace l'elefante al circo lavorio serve ma per forza che non guarimo ma per forza ma come facciamo a guarire se siamo tutti di corsa il tempo il tempo che ci chiedono i nostri figli finché sono piccoli finché è quello il tempo in cui dobbiamo dedicargli del tempo perché quando superano i 12 anni non ve se filano più mo che la chiamate adolescenza fate come vi pare ma è prima il gioco è prima è prima che si parrà la vostra nobiltà quando tornano a casa piccolini e non vedono l'ora di raccontarvi quello che gli è successo e hanno il cuore a 3.000 è lì che vogliono la vostra attenzione ed è lì che vi dovreste ricordare di quante volte voi chiedete di essere ascoltati dimenticandovi di ascoltare io l'ho fatto è per questo che ve ne parlo oh no no non pensate ho fatto bene ho fatto male non li ho ascoltati no no sono un reo confesso non vi confondete me lo ricordo quando venivano da me e i problemi che avevano era ho litigato con Domenico ammazza sai che tragedia io ho i problemi col conto corrente e tasse latari e quelle e quell'altra eccetera eccetera posso stare a sentire a te perché perché pensa tu hai litigato con Domenico eh già ma poi mi ascolti papà sì dopo dopo finisco sta cosa aspetta facciamo allora dimmi su dimmi dov'è e non c'è più si è stancato eh già non abbiamo più il tempo nemmeno di crescere questi figli li guardiamo e diciamo madonna mia è già diventato grande ci siamo inventati persino la teoria che non è importante il tempo che ci stai ma la qualità del tempo no ci devi perché non è che ti avvisano prima quando gli cade il dente non è che ti dicono guarda fate trova qua le 10-10 e un quarto poi ti sistema un appuntamento a papà ci devi essere ma questa è una società che non ci concede nemmeno più questo lo consideriamo un lusso in una mia conferenza ho detto che i veri ricchi per me oggi in questo mondo sono coloro che possono disporre del loro tempo questa è la vera ricchezza riprendersi il tempo è un atto di straordinario coraggio ci vuole un coraggio da leoni nel riprendersi il proprio tempo guardate è una vita da salmoni fate come le trote non c'è tempo non c'è tempo non c'è tempo non c'è tempo ti ascolterò più in là sì 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 vorrei ma non si può non si può è che e no invece si può e invece si può perché questi sono sottrattori occulti di tempo finiscono per levarci anche quei rari momenti di dialogo oggi eravamo a fare colazione in un albergo non vi dico dove a Ferrara e a un certo punto abbiamo guardato la coppia che ci stava a fianco lui aveva un iPad lei aveva un iPad lui guardava qualcosa che lei non guardava non si parlavano manco a colazione è fantastico avete presente quelli che vanno il giorno di San Valentino no perché tocca fa sta cosa che bisogna mangiare insieme all'umede candela eccetera e poi non si parlano però fotografano i piatti che non mangiano dice adesso me lo può portare via se li mandano dice guarda quanto è buono questo ma ti dice ho davanti lo vedo eh non c'è tempo non c'è tempo non ho tempo non è vero che non hai tempo spegnilo vedrai che succede beh no dopo non mi trovano e che succede nel tempo in cui non ti trovano non lo so prova guardate i primi avete capito che siamo dei tossici da questo punto di vista va chiaro guardate lo dico io cioè ci sono dei posti tipo per esempio Cuba dove avere la connessione internet è difficile quello per via del regime sì però è un'esperienza che vi suggerisco perché quando arrivi lì c'è una tarjeta cioè una targhetta che vi dà un tempo cioè oltre quel tempo non puoi andare devi comprare un'altra e quella targhetta funziona solo nella hall del tuo albergo cioè se vai dall'altra parte non ti funziona più quando finisce la devi ricomprare costa tu vedi la gente che ha già fatto il check out gli occidentali che stanno attaccati al vetro per cercare di avere ancora la connessione come davanti al cert non so se avete presente mi dai un po' de metadone io guardate ma oggi siamo andati a fare una denuncia dai carabinieri non c'era non c'era la wifi non c'era il segnale è schermato e perché è schermato è perché perché dentro qui non c'è devi ma perché io devo avere devo avere la connessione no non ce la devi avere ma vi rendete conto ridammi il cellulare c'è gente che quando recupera il cellulare perché magari si è rotto panico no perché se ve levano l'articolo 18 chi se ne frega ma se mettono whatsapp a pagamento oh oh e non scherziamo faccio una rivoluzione vabbè quando c'è gente che manda in riparazione questi oggetti lo smartphone non mi dite c'ho un telefonino perché il telefonino fa schifo tu ci devi avere uno smartphone che l'ultima cosa che fa è telefonare d'accordo fa tutto il resto dice ma c'è telefona telefona anche no quello no allora che cosa succede che capita io l'ho visto non dirò chi quando ha riconquistato il suo telefonino e finalmente ha avuto la possibilità di riaccedere facebook instagram whatsapp ha detto madonna mia finalmente mi riconnetto col mondo no no adesso ti disconnetti era prima che eri connesso chiaro bisognerebbe tornare a fare esperienze di realtà quindi basta correre iniziamo a camminare quanto veloce piano come gli scerpa eh ve li immaginate per strada restano subito ve li immaginate uscite da qua e cominciate ad andare alla macchina lentamente dici che è successo c'hai problemi no mi sto godendo il percorso la maggior parte di noi quando progetta un viaggio lo progetta in funzione dove deve arrivare non del viaggio che deve fare ma se finiamo per vivere la vita così eh guarda che poi arrivi a destinazione è sempre quella ma non ti sei accorto di quello che ti sei perso è vero o no bene abbiamo delle indicazioni su cosa fare perché se no mi dicono sempre beh quindi che si fa respirate no no lo ricordo ma quello facciamo già no non è vero respirate possibilmente utilizzate il verde che avete a disposizione magari così imparate anche a difenderlo se necessario eh dico così per dire prima che arrivino a tagliarvi tutto o a togliervi tutto perché con questa spinta a correre il pensiero si superficializza ed è molto più facile togliere anche i diritti che avevamo acquisito andate lentamente andiamo lentamente rimettiamo radici riscopriamo le nostre radici è l'unico modo di non farci sottrarre la vita grazie lui dice è già finita no se ci sono altre domande anche osservazioni vanno bene anche se non finisce col punto interrogativo promuovere questi non so tagliare gli alberi per i 5G mandare giù programmi nelle scuole per cui uno essendo docente maestro o quel che è o professore deve rifarsi a questi programmi ma non si sa chi è che li promuove in questa maniera negli ospedali insomma a 360 gradi c'è questo imbrigliamento questa invisibile fra l'altro perché se uno ha le catene magari le sente se sono invisibili non si vedono a parte questa sera o in qualche occasione quando qualcuno ci apre gli occhi all'evidente lei ha detto una parola meravigliosa chi è insomma che ha vantaggio a far questo perché effettivamente mi rendo conto anch'io che sono un criceto che sono già vecchio che ho perso tutte ste occasioni e mi commuovo anche quando uno mi riporta in quacco ora intanto grazie per la commozione che non è cosa scontata e di solito quando si rallenta si ricontatta anche quella roba lì che fa parte di noi la seconda cosa per cui la ringrazio è il fatto di aver detto l'evidente questo è un tema a me terribilmente caro io quando inizio i miei corsi di formazione io giro tutto l'Italia per fare per fare corsi di formazione sulla comunicazione e la relazione in particolare in ambito sanitario ma non solo aziende pubbliche private il mondo dell'educazione lo scorso anno ho finito un progetto di un anno intero a tutto l'Ateneo di Perugia nell'Università di Perugia ai docenti universitari economia e commercio giurisprudenza e via dicendo per su dei corsi in metodologia didattica della formazione inizio sempre dicendo se il corso ha funzionato uscirete di qui dicendo una cosa quello che ha detto era ovvio cioè lo sapevo già la domanda è come mai me ne sono dimenticato perché come disse una volta George Orwell siamo scesi talmente tanto in basso che il dovere degli uomini intelligenti è la riaffermazione dell'ovvio è ovvio che bisognerebbe scegliere le parole che possono essere capite e non quelle che devi dire è ovvio che se rallenti senti più cose è ovvio è tutto terribilmente ovvio eppure ce ne stiamo dimenticando allora la domanda non è solo chi perché spesso ci parlano di questo un per cento che detiene la ricchezza del restante 99% il chi c'è si oramai si è cominciato a capire chi è è quell'un per cento lì che continua a perorare una causa di superficializzazione della popolazione perché perché una popolazione che non si fa domande è una popolazione molto più facile da controllare ma questo non lo facciamo ora lo facevamo a tempo dei romani la pancia piena e il circo pane e circo no cioè la vera tragedia nazionale recente è stata la mancata qualificazione ai mondiali chiaro basta dopo tutto il resto chi se ne frega è difficile fare la rivoluzione con la pancia piena e con la qualificazione in tasca so se rende un'idea io me lo ricordo diciamo abbiamo vinto i mondiali che te frega ho capito abbiamo vinto i mondiali però no c'era anche all'epoca il debito pubblico la cosa che forse diventa per me più interessante è capire come lo stanno facendo cioè come sta funzionando e per me il meccanismo è semplice ma potentissimo ve lo posso mostrare in un esempio molto rapido che ho già fatto però mi scuserete non è tutto una prima assoluta allora facciamo un gioco io vi chiedo qual è la strada migliore per arrivare dal punto A al punto B perfetto grazie ok se la risposta della maggioranza so che qualcuno ha esitato so che qualcuno ha esitato ma grazie alla rapidità di intervento siamo beh la retta esatto ok perfetto finché ci sono adulti abbiamo la garanzia che la risposta sia questa farlo a dei bambini potrebbe essere pericoloso che non abbiano superato i sei anni a sette già si guastano e vedono solo linee rete un bambino a cui fu fatta cioè che era presente ad una domanda di un professore che fece questa disse la strada migliore è questa mentre il bambino tornava al posto il professore disse in che modo bambino questa dovrebbe essere la strada migliore sapete la risposta del bambino quale fu ma lei ha chiesto la strada migliore o la più veloce oh ah oh bambino bocciato deve imparare subito che significa da quando la strada migliore è diventata la più veloce da quando i sistemi di governo più veloci sono diventati migliori attenti eh perché la democrazia è lenta oddio mio per prendere una decisione bisogna pensare ma non c'è un'alternativa si decide uno mi piace tempo di reazione rapidissimo uno decide gli altri obbediscono vedi l'efficienza eh non è un caso che il Feng Shui una disciplina antichissima che parla anche di architettura dice ah le strade della democrazia sono quelle più tortuose le strade della dittatura sono dritte non è vero via dei fori imperiali via della conciliazione vabbè coincidenze adesso perché te devi focalizzare proprio no? lo dico perché chi non fosse caduto nel tranello di A e B se io vi chiedessi qual è la strada migliore per arrivare da Treviso a Bologna ma che strada mi indicate si giusto pigliate Google Maps no? e vedi che te dice che te dice Google Maps non è che ti dice vuoi fare la strada più panoramica quello era il TomTom ve lo ricordate il TomTom per chi ce l'aveva che vi diceva preferisci la strada panoramica ma che sei cretino ma chi fai ma oh ma io ho tempo da perdere io Google di default vi dà in automatico la più veloce anzi evita pure le file crea i percorsi alternativi tutto sto macello per portarti il prima possibile dove dove devi andare il treno migliore qual è? il treno migliore qual è? guardate dove la freccia rossa dice che c'hai c'ho la freccia bianca freccia grigia no che sfiga madonna mia ma disgrazia il treno migliore è il treno più veloce giusto? oh ti porta da Roma a Milano in tre ore e mezzo e poi che ce fai a Milano? niente perché sei in anticipo di due ore stai lì e non ma come mai però spendi un sacco di soldi per arrivarci rapidamente velocemente la velocità oh Google ti dà la strada migliore non la decidi più tu ma ti ricordi quando tiravi giù il finestrino? scusi per andare mamma mia poi facevi questi incontri orribili con gente che diceva guardi a spiegarglielo è complicato ce l'accompagno io orrore della solidarietà umana che non deve esserci Google te porta dove devi andare te ce porta lui ma te guida anche la macchina tu te puoi rifare le unghie no? puoi leggere il libro lui te porta manco devi più guidare tre corsie otto corsie diciotto corsie tu l'importante telepass oh se tu non c'hai il telepass te tocca di parlare con quelle seraccio quel disgraziato che ti dice buonasera buonasera a chi quando c'è bi bi è il massimo della relazione concessa c'è mio zio che riesce a non rallentare neanche davanti al telepass infatti una volta si è chiusa la sbarra e ha fatto un cabriolet però perché non bisogna rallentare la tecnica e la velocità va tutto bene finché non ti confronti con una categoria terribile che spero non conosciate o quantomeno non frequentiate i motociclisti perché se voi vi imbattete in un motociclista e lui vi domanda qual è la strada migliore da Treviso a Bologna e voi gli dite la superstrada o l'autostrada gli fate un dispetto vero o no? vado lì vado di qua mi sposto perché? perché la psicologia del motociclista che è disturbato vero? lo dico da motociclista l'obiettivo del motociclista non è arrivare è viaggiare è godersela ma c'è tutto un mondo terribile tra i motociclisti c'è gente che si saluta e manco si conosce gente in piega che con la gana io una volta accosto le prime volte che avevo la motocicletta un mondo per me sconosciuto ci sono arrivato a 35 anni anche più 38 mi sono accostato una volta perché volevo fare una fotografia faccio la fotografia mi volto e vedo due motociclisti con due moto avete presente anche qui robocop che vengono verso di me io prendo il cellulare indietro e fa problemi? c'eri anche tu ciclista ciclista è peggio? è molto peggio e dice problemi? io ho avuto un flashback ai tempi della scuola problemi c'è qualche problema? c'è qualche problema? ho detto no nessun problema no ma alla moto dico è successo no la moto sta bene io sono sceso per fare una fotografia ah ok tutto a posto ascolta 200 metri più avanti non andano forti 200 metri più avanti c'è un'ottima taverna si spende poco si mangia bene ciao nel mondo degli automobilisti manco se ne vedi uno in difficoltà in panna sotto la pioggia o la grandine te fermi va via che non si sa mai non si sa mai tira dritto via 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 è pazzesco quando l'ho acquistata la motocicletta un giorno sono andata a fare il tagliando il tagliando ritorno e quelli che me l'avevano venduta mi fanno non ti abbiamo più visto ma non sapevo che dovevo tornare cioè e se ho tornato per il tagliando eh no ma non è come una macchina è vero no correggimi se sbaglio perché sembra che dico delle ma qui è un mondo diverso cioè non torni in officina solo quando devi fare il tagliando ma è una famiglia ci viene a raccontare che è successo funzionava così quando mio nonno comprò il televisore tra i pochi che aveva il televisore nel suo quartiere sapete che cosa faceva quando c'era l'ascio raddoppia lo metteva sul balcone cioè sulla era al piano terra avevano la finestra avevano fatto un attrezzo per tenere in equilibrio la finestra e invitava tutto il condominio a vedere la televisione ma che ci è successo come siamo finiti tutti nel nostro isolamento abbiamo cominciato a correre correte corri 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 perché più corri più diventi superficiale più diventi superficiale e meno problemi ti poni questo è il vantaggio per te in cambio chiedo qualcosa eh eh beh non ti preoccupare voglio dire votare ogni cinque anni quando te va bene quando te va male anche prima devi annallare devi porre sto problema di coscienza oddio chi voto metti sta X oddio mio signore ma non ma non si può non si può cioè google presto un'applicazione voterà per te guida già per te che ci vuole a fare in modo che pensi per te non ci vuole più niente abbiamo fallito in molti casi con la paura abbiamo utilizzato in modo perverso le religioni sapete com'è che abbiamo vinto quando abbiamo trasformato le persone in consumatori e li consumatori e li non hanno più opposto resistenza lo sai perché perché il problema è che quando senti le catene l'istinto di liberarti c'è ma il trucco è nel non farti sentire le catene non so se rendo l'idea il trucco nel fondo della caverna diceva Platone nessuno sentiva degli schiavi le catene a cui era legato c'era la wifi in fondo alla caverna lo schermo a 75 pollici fuori c'era un SUV che ti aspettava e avevi tutti i comfort ma che te serve di più non le senti le catene e quando parli con gli altri schiavi ti guardano pure male perché te lamenti ma perché te lamenti ma ringrazia il padre eterno li sento gli operatori anche della sanità che dicono lavorare così significa lavorare contro i nostri principi è un dissidio ma ringrazia il padre eterno che c'è il lavoro che c'è tanta gente che non ce l'ha ma che risposta è ma che vuol dire vedete la superficializzazione è un programma antichissimo e che ora comincia a funzionare sta funzionando sta funzionando e non avete idea delle cose che è legittima tutta questa fretta dai sistemi di governo alle organizzazioni delle aziende sempre gerarchiche sempre piramidali perché sono le migliori che rispondono all'emergenza perché non c'è niente di più efficiente del terzo Reich giusto efficiente è efficiente il lavoro di sterminare 24.000 persone in 24 ore richiedeva il massimo dell'attenzione la precisione giusto non si è mai conosciuto un periodo tanto burocratizzato come quello del terzo Reich sapete perché sappiamo quanti ne hanno sterminati perché hanno preso appunti li registravano tutti chiaro e questo produceva un allontanamento da quella componente pericolosissima che è la componente emotiva signori miei il nemico da abbattere è la solidarietà quella di cui si parla nella Costituzione italiana perché la meraviglia di quella Costituzione è nella sua straordinaria capacità di tenere insieme individuo e comunità sempre sempre ogni affondo all'individuo è un uguale affondo alla comunità ma per attuare quella Costituzione serve tempo ed è l'unica cosa che non abbiamo giusto? non vorrei ricordarvi lo spread ma a quanto sta? a quanto sta lo spread? oh! a quanto è? a quanto sta? eh? immetti nel sistema l'ansia e poi otterrai dei risultati straordinari quindi il problema non è chi per me il problema è come è per questo che mi piace leggere Marshall McLuhan che è un filosofo anche questo sottovalutato che diceva attenti ai mezzi che utilizzate perché non è vero che dipende da come lo usi il semplice fatto di utilizzarlo ti sta già formattando la mente questo diceva Marshall McLuhan negli anni 60 quando ancora internet non c'era ma c'era la televisione quella che Ennio Flaiano disse tra 30 anni l'Italia sarà non come l'hanno fatto i politici ma come l'ha fatta la televisione aveva già ragione appunto ma la cosa incredibile è che noi non ci rendiamo conto di come il semplice fatto di utilizzarlo già riprogramma la mente chiaro vi spinge a ragionare in un modo diverso indipendentemente lui diceva non è importante che tu guardi programmi spazzatura o programmi alto colti no no il problema è che tu la guardi e quello già se non c'è consapevolezza è un pericolo che vuol dire allora spegniamo l'intervistazione già è finito buttiamo no lui diceva siate consapevoli perché il sistema che hanno è di non rendervi consapevoli di non renderci consapevoli superficializzano perché manca la consapevolezza laddove c'è consapevolezza c'è scelta ma c'è anche una grande fregatura che non avete scritto la responsabilità perché dove c'è consapevolezza e scegli tu ti assumi la responsabilità delle scelte delle scelte che fai aridatemi google rivolio un sistema semplice perché se c'è una cosa che l'essere umano tende a non desiderare è la responsabilità di doversi liberare dalle catene tanto è vero che aspettiamo che lo faccia qualcun altro diventa una zona di comfort grazie esatto diventa una zona di comfort esattamente comunque visto che è tutto un gioco con le responsabilità è bellissimo giocare sì è vero sì rivelo quello che ha detto posso? sì ha detto comunque siccome è tutto un gioco giocare con le responsabilità è bellissimo ho detto giusto l'ho detta giusta sì quando si scopre che giocando con la responsabilità cioè assumendosi la responsabilità delle proprie scelte si conquistano margini di libertà inaspettati allora sì che diventa bello diventa bellissimo diventa prendersi la responsabilità delle scelte che si fanno guardate che è l'altra faccia della libertà ed è finita la delega sì concordo pienamente grazie 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 a tutti